Giovanni Trellini Non permettono di giocare come sappiamo Anche perché noi siamo abituati a giocare agli Alcarotti Quindi lo stadio è molto grande, è il campo di gioco E poi comunque sia Castelfattese È una squadra grintosa che non permette di giocare come vuoi Poi sì, ci si è messo anche gli infortuni Però ecco, il problema di cambiare il giocatore Quello è minimo È stato un peccato perché comunque la squadra I giocatori ci hanno messo al massimo E' mancato il gol che però dopo è andato bene anche Perché dopo un paio di contropiedi abbiamo rischiato troppo Abbiamo rischiato quindi il pareggio va bene Va perché comunque non abbiamo mollato mai Quindi ragazzi non posso dirgli niente Una Iesina comunque tonica Soprattutto nella parte centrale del campo Ancora con Figueroa finché è rimasto in quella zona E Sfrappini che hanno sicuramente dettato tutti i ritmi di questa Iesina Sì, il centro campo ha giocato molto bene Molto tosto Però ecco, devo dire che ha giocato bene tutta l'altra squadra Quindi anche l'attacco e la difesa Anche se dico la difesa abbiamo dovuto cambiare diverse volte Però è proprio tutto Diciamo tutti i reparti hanno fatto un'ottima prestazione Poi come volevamo la partita è stata così E' mancato solamente il gol Ecco, dovremo essere più cattivi sotto porta Perché le poche palle che abbiamo Dobbiamo sfruttarle meglio Adesso si ricomincia un altro turno infrasettimanale Con altre partite abbastanza dure Adesso giochiamo mercoledì in Coppa Italia È un obiettivo perché tanto comunque Vincere e andare avanti significa anche A parte il trofeo ma Ti potrebbe dar diritto anche di un possibile ripescaggio in futuro Ma noi guardiamo adesso Guardiamo vicino Quindi andremo a giocare con un Chiaravalle Totalmente rinnovato l'anno scorso E poi andremo a affrontare ancora di nuovo in casa l'Urbino Quindi sono due partite toste che noi ce la metteremo tutta In bocca al lupo Giovanni Gianluca Fenucci, il trainer di questa Cassefretese Che ha strappato un punto meritandolo decisamente Qualche recriminazione su due occasioni Di Marchegiani appena entrato Ha lasciato partire quel tiro che si è stampato sulla traversa E poi il gol mangiato da Principi Che se forse la metteva dentro al 17 Era un gol fatto Ma sì, d'altronde il calcio vive d'episodi Ci avevamo avuto una grande occasione anche all'inizio Con Buonaventura Però direi che il risultato è giusto Perché la Iosina è una buona squadra È un'ottima squadra secondo me Ripartita sempre pericolosamente Noi siamo stati bravi a non concedere più di tanto Se non una palla nel corso del primo tempo Che nella stessa azione ci hanno avuto due o tre volte La possibilità di metterla dentro Però il rammarico è grande Perché le occasioni forse più clamorose La traversa ce l'abbiamo avuta noi Però ripeto Se andiamo al di là degli episodi Come credo debba fare un allenatore Il pareggio sostanzialmente è giusto Io sono soddisfatto dei miei Hanno lottato Hanno tenuto il campo molto bene Hanno coperto tutte le zone Senza concedere quasi nulla alla Iosina Bisogna essere soddisfatti C'è da migliorare Però dopo quattro giornate Abbiamo fatto vedere alcune buone cose Che è giusto cercare di confermare in seguito Una casa pretesa a cui mancava diversi giocatori importanti Come dicevite comunque una buona prestazione Ma sì, giocatori importanti Ma quelli che hanno giocato Non hanno fatto sentire la differenza D'altronde gente come Pelusi Finucci Ventura stesso Difficilmente possono concedersi agli altri Però noi abbiamo un gruppo unito Fatto di 23 giocatori E questa è stata la dimostrazione Che l'ambiente è sano Che la società ha operato sempre per il meglio Perché punta in particolare Su gente del territorio Come credo sia giusto in queste categorie E la soddisfazione grande è questa Aver tenuto testa una delle grandi del campionato E magari stare qui a recriminare anche qualcosa Ma dico che dobbiamo essere anche felici così In buco al lupo Grazie a voi Grazie Pelucci Grazie a voi Grazie Grazie a tutti.